Musica Ciao a tutti, qualche giorno fa ho preparato il filetto con la crema di castagne proprio la crema di castagne, io la sto usando tantissimo in cucina, sto facendo tutti gli esperimenti è gustosissima quindi ho pensato di fare un video dedicato solo alla crema di castagne per preparare questa crema ci occorreranno 200 grammi di castagne, mezza cipolla rossa, 250 ml di latte, un pizzico di sale e olio extravergine d'oliva prepariamo la crema salata di castagne che vi assicuro è una ricetta semplicissima, molto veloce da fare che arricchirà tantissimi piatti che farete sotto le feste di Natale si prepara molto semplicemente vi dicevo tagliando le castagne sulla parte quella piatta come si fa normalmente poi le mettiamo sul fuoco con la classica padella quella con i buchi direttamente sul fornello come inizieranno a cuocere vedrete che il taglio si aprirà parecchio e saranno esternamente belle abbrustolite a questo punto prendete un canovaccio asciutto, le mettete tutte strette all'interno di questo canovaccio si formerà del vapore, le dovete far riposare una mezz'ora come minimo le castagne quando hanno riposato bene nel loro canovaccio si staccano praticamente dalla buccia da sole basta praticamente toccarle perché il taglio si è allargato tantissimo quindi a questo punto puliamo tutte le castagne dopodiché andiamo a prepararci per la crema tagliando in modo abbastanza sottile a pezzi piccoli una mezza cipolla rossa mettiamo la cipolla in un pentolino piccolo perché in realtà quella che andremo a fare è una piccola quantità di crema è un accompagnamento, quasi una decorazione solo molto molto gustosa di un piatto la cipolla ci mettiamo chiaramente un goccino di olio extravergine di oliva facciamo appassire come appassita la cipolla aggiungiamo le castagne e subito il bicchiere di latte a questo punto rimane solo di aggiustare un attimo con il sale ma assaggerete alla fine ve lo consiglio così sistemate bene la sapidità di questa crema dovrà cuocere per circa 15-20 minuti fate attenzione a tenere il fuoco basso in modo che non schiumi troppo il latte dopodiché con un prullatore ad immersione andate a ridurre il tutto in una purée, in una crema se non riuscite nel pentolino trasferite il tutto nel bicchiere del frullatore questa crema di castagne meritava senz'altro un video tutto per sé io l'avevo già fatta la settimana scorsa ma l'ho voluta tirar fuori e lasciare da sola in questo video perché davvero è troppo buona e troppo versatile in cucina se fate qualche esperimento con questa crema me lo scrivete nei commenti come la state utilizzando sono molto curiosa, spero che vi sia piaciuta arrivederci alla prossima ricetta